Tesoro? Oh no! Quello è il Joker! È la mia immaginazione! Le mamme tendono a esagerare sempre tutto! Tesoro? Che stai facendo? Ma Eva è troppo occupata per rispondere alle sue stupide domande! Traccia l'illuminante su una spugna per il trucco! Ritaglia! Incollala nel coperchio dell'illuminante! Fissa il contenitore sul fondo di una tazza! Devo aiutarla! Allora, come si usa una tazza? Ne vuoi parlare? Papà è fuori di testa! Si usa così! Capito? Ora prova tu! Userò il trucco della mamma! Oh, sta arrivando! Oh, una nuova maschera per il sonno! Grande! Papà non sapeva cosa ci nascondesse Eva! Cosa? Ciglia finte? Eva! Eva! Mentre i miei genitori sono occupati, io posso farmi le ciglia! Togli il manico di una padella! Incolla una parte del manico e un tubetto di mascara! Mamma, papà! La colazione è pronta! Oh, che buon profumo! Buon appetito! Devo andare! Oh, sono pieno! Tesoro, faccio io i piatti! Sei incredibile! Oh, cos'è successo? I piatti sono tutti neri! Non capisco! Aspetta! Non è possibile! È un mascara! Eva! Ciao! Ciao! Cosa dovrei prendere oggi? Questo? E io ti guardo così, non compri nessun trucco! Hmm... E ora mi faccio le labbra! Ciao, tesoro! Non puoi ingannare tua madre! Dammi il tuo lucido labbra! Penso che le ragazze siano annoiate! Guardate cosa ho fatto! L'extension di trucco! Fuori il tappo di un campione di rossetto con un ago riscaldato! Infila un anellino! Attaccalo all'extension a treccina! Aggiungi anellini dappertutto! Il trucco veloce è affatto! Wow, non ci credo! È incredibile! Facciamoci un selfie! Vi state divertendo? Vi ho portato degli snack! È rossetto? Ora basta! La festa è finita! Andate tutte a casa! Ciao, ragazze! Ciao, Eva! Tesoro, il trucco è davvero così necessario? Oh no! Che succede? Dolcetto scherzetto! Eh, Halloween è stato sei mesi fa! È primavera! Ma ho lavorato duramente! Va bene, ecco i soldi! Sono un genio! Nessuno ha notato il mio trucco? E ho fatto soldi! I miei amici mi stanno aspettando! La mia canzone preferita! La mia canzone preferita! La mia canzone preferita! Tesoro, sorpresa! È per te! Aprilo! Wow, Airpods! Provali! No, non ora! Cosa? Orecchini? Cavolo! Niente cuffie e niente regalo! E mi porto via gli orecchini! Oh, cavolo! La mia giornata è rovinata! Ed ecco il mio lucido labbra finto! Me lo metto mentre nessuno guarda! Vuota il contenuto di una bottiglietta di tabasco con caramelle Rivesti l'interno con una miscela di vernice acrilica e un po' d'acqua Incolla il tappo del lucido labbra nel tappo della bottiglia E incolla il tubo nella bottiglia Oh, papà! È finito il ketchup! Oh, tabasco! Perfetto! Grazie! Ne metterò un sacco! Un papà affamato può mangiare qualsiasi cosa! Che succede? Perché sei coperto di lucida labbra? Lucida labbra al posto della salsa? Eva! Questa è il modo perfetto per nascondere l'ombretto! Sovrapponi due cover Ritaglia la forma di una palette di ombretti Fissa la palette nel buco Rivesti la parte anteriore con smalto per unghie in gel Mettila sotto la lampada UV per un minuto Il mio trucco è fantastico! Devo farmi un selfie! Eva, perché il tuo trucco è così luminoso? Mamma, è un nuovo filtro! Guarda! Wow, sono bellissima! È il mio telefono! Beh, devo andare alla festa! Che cover unica! Quello è ombretto! Eva! La cipria da hamburger è la mia migliore idea! Apri a metà un panino da hamburger a fermo Forma una cavità nella parte inferiore in modo che possa contenere la cipria Incollalo! Dipingi la parte superiore Attacca una fetta di formaggio di carta pesta e lattuga Ricopri con il panino Sta arrivando qualcuno! Ciao, Eva! Oh, un hamburger! Posso? No, papà, è mio! Sono davvero affamato! Nasconderò i brillantini dove mamma non li troverà di sicuro La doccia! Oh, no! Mamma sta per fare la doccia! Solo che oggi sarà una doccia di glitter! Oh, no! Che succede? Eva! Mi truccherò mentre i miei genitori non guardano La mia borsa dei trucchi è sempre con me! Fai attentamente un taglio sul bordo di un pacchetto di nachos Tira fuori le patatine Attacca una cerniera al taglio Aggiungi del feltro all'interno in modo che mantenga la sua forma Cos'è quello? Eva, cos'hai lì? Mamma, sono solo patatine! Oh, ne prendo un po' anch'io! Cosa? Ombretto? Eva, questo è trucco! Conosci la regola? Niente trucco! Incredibile! Eva, volevo parlarvi! Oh, sei così carina! Puoi truccare anche me? Certo, mamma! Chiudi gli occhi! Ecco fatto! Ora siamo entrambe bellissime! Tesoro, ti voglio tanto bene! Andiamo a provare dei vestiti nuovi! Ti è piaciuto il nostro video? Scrivi qui sotto cosa ti è piaciuto di più! La cipria burger? La borsa nachos? O il lucida labbra tabasco? E metti un like al video! Iscriviti al canale! E clicca sulla campanella per non perdere nessun nuovo video esilarante di Troom Troom! Ciao!